Mi chiamo Andrea Albertini e sono il direttore e creatore di questo ensamble tutto al femminile che si chiama Le Muse, l'ensemble di musiciste italiane. È un ensamble che sta portando avanti questo progetto omaggio a Ennio Morricone che è partito dopo il conferimento dell'Oscar, quindi nel 2016. Un omaggio a Ennio Morricone a partire dal suo, per un pugno di dollare, del 1964 fino agli ultimi recenti successi, quindi la collaborazione con Tornatore e con Quentin Tarantino. Direi che gli ingredienti, perché sia un concerto emozionante, ci sono tutti. Buona musica a tutti e divertitevi con la musica dell'ensemble Muse. Grazie a tutti.